Ciao a tutti, anche questo video in collaborazione con la Marco Bindi Live Band, io sono come sempre Berta Filava, tutti i contatti per raggiungermi li trovate come sempre nella descrizione, unita al collegamento con le altre playlist. Lasciate il like e iscrivetevi al mio canale. Anche lo schema di questo video lo troverete scaricabile gratuitamente su Berta Filava Stories Blog e troverete l'indirizzo nella descrizione. In più ho aggiunto una nuova cosa, alcuni file hanno il vettoriale sotto, quindi che può essere scaricato gratuitamente. Oggi vedremo come fare una scatolina porta uovo, nella fattispecie un porta uovo di Plexiglas, perché non mi piaceva particolarmente dare questo uovo in Plexiglas senza niente. Lo schema è questo, è stato parecchio rivisitato, ok vedete, ha il porta uovo e la sua base. Allora, sulla pagina Facebook ho pubblicato questo, però mi sono accorta che potevo aggiungere qualcosina di diverso. E' appunto il nostro uovo di Plexiglas, questo è della grandezza di 7 cm. Andrò a mettere all'interno i famosi braccialetti Click Club, questi. Perché ho fatto il braccialetto Click Club? Perché praticamente è diversa dalla striscia in gomma, è un attimino più stabile, sembra fatto meglio, vedete. Allora, io metterò dentro la Gorius, il braccialetto col fiocco Gorius, quindi ovviamente ho creato una scatolina che si abbinava. Vedete, qui non c'era la manica, il manico scusatemi, quindi ho deciso di aggiungere questo pezzo. Poi vi faccio vedere come metterlo. Per questione di grandezza del foglio, praticamente l'ho fatto i separati, vedete. Questa è la nostra base uovo. Ovviamente avete il segno per fare le pieghe. Piegate. Tutto. Questo è, ripeto, è molto comodo. Ripeto, è stato rivisitato diverse volte, perché ho visto degli schemi presenti già online. Però c'erano delle cose che mi piacevano di una scatolina, delle cose dell'altra, quindi ho deciso poi di rifarlo direttamente io tutto, quindi è rifatta da capo. Quindi questo schema in realtà non lo troverete in giro. È simile, ma ha delle particolarità. Come sempre, per poter ingrandire i disegni che io vi lascio, basta che ingrandite dall'angoletto e lo portate alla grandezza che preferite. Ripeto, per alcuni file sto inserendo sotto il vettoriale, per chi ha le macchine, plotter e roba varia. Penso che sia una cosa comoda per tutti. Ovviamente molti sono gratuiti, ma qualcuno hanno giusto il rimborso spese. Non pensate che il file, anche quando lo metto a pagamento, costa una cifra abnorme, ma è giusto perché ci ho perso tantissimo tempo per creare lo schema, e quindi di conseguenza, o per modificarlo o per aggiustarlo, e quindi di conseguenza lo metto un teorico a pagamento. Ok, vediamo anche qui tutte le pieghette che vi escono. Sul disegno trovate il tratteggiato, chi comprerà il file vettoriale, per un plotter da taglio basterà che lo metterà al taglio. Se vedo, questo è uno schema simile, sono diversi schemi messi insieme, perché mi piaceva una cosa di una scatola, una cosa di un'altra, quindi poi ho deciso di abbandonare il progetto iniziale e di rifarlo da capo. Ok, una volta piegato tutto con le mani, andiamo a dare la pieghetta, cioè per poi poter fare la parte dell'uovo. Vedete? Ok, e iniziamo ad incollare. Questa scatolina a me piace tantissimo, l'ho fatta proprio col cuore, mi piaceva, mi piaceva, mi piaceva, ne ho provate diversi di schema, ma non avevo il risultato che volevo. Ho fatto la prima prova, infatti non era uscita male quella azzurra, però mi mancava qualcosina. Ora in questa, questa definitiva ora c'è tutto. Ripeto, questa scatolina misurata, come vi lascio lo schema, è per una pallina di plexiglass alta 7 cm. Poi ovviamente voi andate a ingrandire e rimpicciolire in base alla vostra necessità. Ovviamente per regolarvi userete la guida, diciamo, la base della nostra palla, scusate, la guida. Lasciate un like, mi raccomando, iscrivetevi al canale, veniteci a trovare su Facebook. Come molte ormai sanno abbiamo creato un gruppo WhatsApp. Su Facebook faremo tante dirette. Con la scusa appunto di questo tutorial vi lascio la buona Pasqua. Penso che farò ancora un altro tutorial prima di Pasqua, anche se ormai sono in ritardo. Quindi molte faranno queste creazioni l'anno prossimo. Ripeto, questo file sarà scaricabile gratuitamente su Berta Filava Store e Blog. I collegamenti per i blog li trovate qui sotto. Come vedete sto incollando tutte le alette al frontale del nostro uovo. Poi giustamente, chi non lo sa, abbiamo anche l'altro blog, Berta Filava Classica. Ci sono tantissimi schemi punta-croce e uncinetto. Ho voluto distinguere un attimino i due blog. Quello con gli schemi punta-croce e uncinetto e questo con le creazioni modificate, aggiustate, rivisitate. Perché ormai c'è ben poco da inventare. Cioè è quasi tutto visto. L'unica cosa che si può fare è modificarlo per rassemblificarlo. O dargli un nuovo tono alla creazione. In questo caso ci sono tanti toni. Mettiamola così. Questo ve lo lascio gratuito, il file. Questo avrete il file per poterlo creare. E sotto avrete il file taglio. Nel file taglio, quindi quello vettoriale. Il vettoriale, per chi non sapesse cosa vuol dire, è quello .savage. Per esempio, avete proprio la scatolina e il fiocchetto. Già calcolato per la grandezza che vi do. Vi ringrazio a tutte. Siamo diventate ormai tantissime. Vi voglio bene. Vedete, ho incollato tutto. Ok. Abbiamo quindi preparato la base. Abbiamo preparato la nostra scatolina. Ora, per fare in modo che non... Siccome il cartoncino non è pesantissimo. Per fare in modo che, uno, la palla non si muova. E due, non si muova manco il cartoncino. Usiamo la nostra guida. Vedete? Va qui all'interno. Io di solito la misuro. Vedete se ho fatto tutto giusto. Sì. Riprendo la mia base. Non l'appoggiate perché poi rischia che vi scarra la sbagliato. Mettete un pochino di colla negli angoli. Vedete? Un po' di angolo e colla qui. Un po' tutte le parti. Ok. E incollate. All'interno. Diciamo che è quasi finita. Vedete? Ora, veramente, sto facendo un attivino più piano per farvi vedere la nostra scatola. E possiamo dire che è pronta. Foggiamo il nostro uovo all'interno. Allora, per comodità, io mi incollo praticamente questo lato e questo lato. Perché ho deciso di fare i manici separati? Perché ci può servire che c'è il manico come non... Che ci mettiamo il manico come no. E in più praticamente ho fatto in modo che la mia creazione entra su una 3. detto praticamente. Quindi questa creazione come ve la lascio per essere corretta deve essere... Bisogna usare una 3. Poi vi lascio comunque la misura del mio foglio. Accoppio i due manici. Ripeto, questa l'ho fatta per comodità mia così. Vedete? Questa era quella originale. Però, siccome non è detto che non vado usato anche così, ho deciso di farle separate dalla bustina. E la vado ad inserire all'interno dei due lebi. Vedete? Vedete? E metto il puntino di colla. Ok. Eccola qui. Spero vi piaccia. E andiamo a creare i nostri fiocchetti. Anche questo sarà sullo schema che vi metto scaricabile. Spero vi possa piacere. Ho ricalcolato in base alla grandezza della scatolina. Ovviamente io ve ne metto una, voi ne farete due. Una avanti e una dietro. Incollata. Ok. Mettiamo la colla. Se l'ha staccato. Perfetto. Spero si veda tutto. Ho preso quella giusta. Sì. Ok. Pensavo di aver preso il fiocco sbagliato. Scusatevi. Mettiamo la colla al centro come tutti i fiocchi quelli. qui. E chiudiamo. Mettiamo il fiocco al centro. E chiudiamo. Sovrapponiamo il fiocco piccolo a quello grande. Sì. Scusate. Scusate. Noi mettiamo la base del fiocco. Il fiocco sopra la nostra base. Poi mettiamo, sovrapponiamo il fiocco piccolo a quello più grande. Spero vi piaccia. Mettiamo. A me questa scatolina piace tantissimo. Come si suol dire. Me la sono fatta apposta perché mi piaceva. Poi non trovavo una bustina. Mi si muoveva la palla. Un'altra era fatta strana. Quindi alla fine ho deciso proprio di rifarla tutta a capo. Un'altra non aveva le lette. E quindi di conseguenza si rompeva la scatola. Quindi ogni scatolina aveva un difetto. Quindi ho detto ok. Mi siedo e me la ridisegno. Mi piace così però me la ridisegno io. E ho deciso di condividerla con voi. Quindi chi vuole venite su Facebook. Così ci possiamo conoscere. Ecco il fiocchetto piccolino. Facciamo pure l'altro. Io ovviamente c'ho il vizio di non prepararmi niente. Ci sono tutte le altre brevissime creative e youtuber. Che si preparano almeno una delle due decorazioni prima. Io invece no, lo faccio con voi. Mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al mio canale. Anche se a volte sono pro lì. Cioè sono lunga nelle mie spiegazioni. Però spero di essere chiara. Vi faccio rivedere. Ripeto sul file troverete sia la scatolina con la sua base. Perché sono molto fiera di questa base. Per una pallina di plexiglass 7 cm. E il fiocchetto che sto usando in questo momento. Ripeto, non mi piaceva l'idea di questa pallina. Mi piaceva l'idea della pallina in plexiglass. Sono del classico vetto kinder. Anche se poi farò qualche scatolina anche per l'ovetto kinder. Perché mi piaceva l'idea di far vedere il giochino. E poi siamo in un periodo storico che purtroppo non ci sono i soldi. Quindi ho deciso di creare una composizione che fosse allo stesso modo carina. Ma economicamente abbordabile. Quindi accessibile. Quindi il bambino ha il suo giochino. In questo caso il braccialetto clip cap. Che si può fare di qualsiasi personaggio volete. E in più abbiamo creato una creazione. Quindi non hanno questo vetto in plexiglass finito. Cioè per sé da solo. Bensì hanno una creazione più carina da portare. Ora io non sono brava a fare le foto. Quindi molte creazioni forse perdono perché non sono brava a fare le foto. Però poi vedo i vostri risultati e mi ricredo. Abbiamo quasi finito. Vi vedo a me questa creazione mi piace tantissimo. Sarà che poi a me piacciono molto le Gorius. Vedete? Vi faccio vedere. E' proprio bella la mia scatolina. Eccola qui. Gorius. Plazzoletto Gorius con le resine. Vedete? Pazzetto clip cap. E la borsetta. La borsetta. La scatolina. Guardate quanto è bella. Grazie a tutti e al prossimo video. Un bacione grande grande a tutta. Giù la borsetta... Grazie a tutti.